Bentornato e bentornato al dottore Saverio Jacopino, bentornato dottore perché il dottore oggi, io ricordo che il dottore insomma è amico del mio medico e di buonasera dottore, è il direttore dell'unità di aritmologia Maria Cecilia Hospital di Cotignola in provincia di Ravenna. Con il dottore oggi vi presentiamo uno strumento eccezionale. Quando la tecnologia incontra la medicina si creano cose meravigliose per il nostro benessere. Oggi vi presenteremo un cardio insight, uno strumento, poi lo vedremo perché siamo andati proprio nel reparto del dottore per capire come funziona questo strumento meraviglioso che ci permette appunto di capire come sta il nostro cuore, come stanno le nostre aritmie. Che cosa sono esattamente le aritmie? Le definiamo dei disturbi del ritmo cardiaco intendendo distinguere forme di tipo bradicardico in cui il cuore rallenta molto la sua funzione da forme di tipo tachicardico, basta pensare all'extrasistore e tachicardia parossistica. Da cosa possono essere causate dottore? Sono diverse le cause, esistono delle forme congenite per cui talvolta neonati nascono con turbe del ritmo, per esempio dei blocchi atroventricolari che richiedono per esempio un impianto di pacemaker nell'immediato. Altre forme sono acquisite, cioè nel tempo si sviluppa un'aritmia trialo-ventricolare a secondo della localizzazione, per esempio legata ad una patologia valvolare o una malattia delle coronarie. Altre ancora sono di natura genetica, cioè c'è un'anomalia di un gene, in questi casi la famiglia, ci sono dei membri familiari che hanno subito delle patologie, morte improvvisa per esempio, e in questi casi l'attenzione è massima proprio perché l'identificazione precoce della turba genetica visibile all'elettrocardiogramma ci consente di salvare una vita. Per cui basta un elettrocardiogramma in questo caso. Però non basta in realtà, ma non basta perché appunto ho detto che la tecnologia e la medicina sono andate oltre. Parliamo di sintomi. Come ci facciamo ad accorgere che c'è qualcosa che non va al nostro cuore? Il nostro cuore che sfarfalla? Che sentiamo? Ci sono diverse modalità di presentazione. Diciamo che la sensazione di cuore strano, batticuore o cardiopalmo o un tonfo come se il cuore si fermasse e ripartisse. Questa è una delle principali percezioni che il paziente ha dell'aritmia. Però purtroppo talvolta è anche asintomatica. Basta pensare alla fibrillazione atriale, il cui esordio spesso è di natura ischemica. Si esordisce con un ictus e allora questi sono quelli che ci mettono più a dura prova in termini di diagnosi. La prevenzione è tutto. Insomma, analizzare il nostro cuore anche con degli esami preventivi e poi ci dirà esattamente in che modo dobbiamo controllare il nostro cuore. Parliamo di questo cardio insight, questo giubbotto. Che cos'è esattamente? È una innovazione, una rivoluzione diagnostica in realtà. È una sorta di giubbotto che ha un vero e proprio giubbotto con una serie di elettrodi, di microelettrodi, circa 256, che hanno la capacità di ricostruire tridimensionalmente in maniera non invasiva, quindi al letto del paziente, come vedete in questo filmato, le caratteristiche elettriche dell'impulso cardiaco, che può essere di natura normale oppure anomalo. Nell'anomalia, la fibrillazione atriale o l'extrasistole può essere identificata esattamente dove origina, nell'atrio, nel ventricolo e nel punto esatto, con un'integrazione, con un'immagine TAC, ci consente di identificare la sede di origine che è utile per l'ablazione, cioè per la tecnica poi di cura. Per cura, per la cura. E noi per capire esattamente come funziona il cardio insight siamo entrati nel suo reparto al Maria Cecilia Hospital per seguire proprio il percorso di un paziente. Allora, vediamo insieme che cos'è, come funziona questo cardio insight. Guardate. Siamo al Maria Cecilia Hospital di Cotignola per entrare nel dipartimento di aritmologia, dove ci si occupa di tutti i disturbi che riguardano il battito cardiaco. Qui vengono utilizzate tecniche innovative come la cardio ablazione e il mini pacemaker iniettabile. Noi in modo particolare scopriremo l'utilizzo del cardio insight, un giubbotto high tech che permette di mappare il ritmo cardiaco. Dottor Jacopino, quali sono le patologie più comuni che l'aritmologia tratta? Ci occupiamo di aritmie cardiache, in particolare le tachicardie parossistiche, che colpiscono molto i giovani, la fibrillazione atriale che viene considerata una delle epidemie del terzo millennio, le sincopi, cioè la perdita di coscienza e la morte improvvisa. In casi sospetti e in pazienti con familiarità avete adottato un percorso diagnostico di prevenzione veloce, in che cosa consiste? Si basa sull'elettrocardiografia, su un racconto anamnestico, se in famiglia c'è un decesso improvviso in età giovanile e una diagnostica che prevede l'elettrocardiogramma, l'eco, il test da sforzo e in casi selezionati la risonanza magnetica, questo ci consente di avere un primo approccio su una diagnosi. Primi in Italia avete adottato il Cardio Inside, di che cosa si tratta e come funziona? È un giubbotto diagnostico multielettrodico, si applica sul torace del paziente, che deve indossarlo per una giornata intera. Viene preceduto dall'esecuzione di una TAC del cuore, che ci consente di creare l'anatomia vera del cuore di quel paziente, che si combina con l'anatomia elettrica virtuale costruita attraverso questi 256 microelettrodi. Questo ci serve per fare un mappaggio elettrico e ci aiuta a identificare in maniera non invasiva, prima che il paziente entri in una sala operatoria, dove è l'origine, la sede dell'aritmia. In alcuni pazienti le terapie elettriche che noi pratichiamo, l'impianto dei defibrillatori, pacemaker, eccetera, sicuramente migliorano tanto la prognosi, cioè fanno vivere a lungo il paziente e spesso danno anche un miglioramento della qualità della vita. Altre tecniche come l'ablazione sono eradicanti le patologie, quindi in questo caso non solo sulla prognosi ma anche sulla qualità della vita per cui il paziente diventa un ex ammalato. Per fortuna la ricerca sta andando sempre avanti, sempre più diagnosi, sempre più cure. E a proposito di cure, perché questa è la diagnosi, abbiamo capito esattamente come funziona. E poi cosa dobbiamo fare per curare il nostro cuore? Una volta fatta una corretta diagnosi è possibile utilizzare tutte le terapie possibili, cioè i farmaci, laddove utili, alcuni farmaci antiarrittimici ci aiutano a migliorare drasticamente i sintomi, quindi prolungare anche la vita, ma le tecniche curative sono l'ablazione, che ha una caratteristica peculiare, cioè quella di identificare l'aria elettricamente malata nel cuore e di erogare una corrente caldo-fredda, si chiama radiofrequenza o crio-ablazione, per eliminare questi circuiti impazziti che sono presenti nel cuore. Si guarisce per sempre? In questi casi si guarisce per sempre. Per sempre, perché c'è la possibilità delle recidive, perché insomma il cuore mette sempre un po' paura, proprio perché non ci sono dei segnali e dei sintomi che ci possono fare. È diverso il contesto, nel senso che ci sono alcune aritmie di natura congenita, come le tachicardie parossistiche, tachicardie da rientro, queste sono curabili e in via definitiva. Alcune, come la fibrillazione atriale, ci fanno impegnare un po' di più. Un po' di più, però niente paura, parliamo di prevenzione. Il cuore, al nostro cuore dobbiamo voler molto bene, no? In caso di familiarità immagino ci siano degli esami anticipati da fare, però la prevenzione, che cosa dobbiamo fare per prevenire tutte queste malattie? Beh, la prevenzione passa sempre dai nostri stili di vita, quello che mangiamo, come ci muoviamo, se facciamo attività fisica, quanto alcol assumiamo. Per cui ne abbiamo parlato stamattina anche con una dieta mediterranea, che la riproponiamo sempre, perché è il miglior stile di vita alimentare che anche il paziente cardiopatico può avere. E a che età dobbiamo iniziare a fare qualche esame per il nostro cuore? Io direi il primo possibile, nel senso che una volta magari i giovani e i ragazzi facevano il servizio militare ed era la prima osservazione che si faceva. Ora non c'è neanche questo. Però si è introdotto l'argomento della valutazione elettrocardiografica in chi fa sport, obbligatorio. E questo rappresenta già una buona valutazione iniziale. Per cui elettrocardiogramma anche sotto sforzo? Assolutamente sì. Assolutamente sì, per cui oltre all'elettrocardiogramma, anche l'elettrocardiogramma sotto sforzo che ci identifica qualche cosa che non va al nostro cuore. Grazie davvero al dottore Jacopino per queste novità. Grazie.